Il Colosseo è uno dei più famosi monumenti di Roma. Fu costruito nel primo secolo di C. e poteva ospitare fino a 80.000 spettatori. Era usato per giochi e spettacoli. Come le battaglie tra gladiatori. Oggi è uno dei più grandi turisti attrazioni di Roma. Il Colosseo è uno dei più famosi monumenti di Roma e dell'intera Italia. Si tratta di un anfiteatro che fu costruito nel primo secolo di C. e che è stato utilizzato per giochi e spettacoli. Oggi è uno dei simboli della città di Roma e viene visitato da migliaia di turisti ogni anno. Il Colosseo è uno dei più famosi monumenti di Roma e del mondo. Fu costruito dall'imperatore Vespasiano nel 72 d.C. e inaugurato dal figlio Tito nell'80 d.C. Il Colosseo è un anfiteatro a cielo aperto che poteva ospitare fino a 80.000 spettatori. Era utilizzato per giochi di gladiatori, battaglie di animali e altri spettacoli pubblici. Nel 523 d.C. un terremoto danneggiò gravemente il Colosseo. Ma fu ricostruito nel XV secolo. Oggi è uno dei monumenti più visitati al mondo.